ciao riccardo benvenuto reggevi nel campo volo c'è carico davvero serio senti terrorizzato perché ti hanno trascinato o scelto perché se sei terrorizzato hai scelto non va bene va bene ottimo dai ci sta è giusto avere un po di paura allora ascolta se è tutto chiaro e non hai altri dubbi ti dico solo che io sarò davanti a te per tutto il tempo della caduta libera video foto tu guardami più che puoi puoi anche urlare così butti fuori lo stress va bene? ci vediamo tra pochissimo No 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 Grazie a tutti. 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 Com'è? È stata una delle esperienze più belle. Ti piacevole? Respira.